Sono nel Barton Marboretum a Stanford, davanti a me un Red Dawn, una metasequoia chiamato anche l'albero dinosauro perché esistente già ai tempi preistorici, riscoperto in Cina, un albero altissimo molto vecchio e ha gli aghi morbidissimi. E' di un colore verde brillante, le pigne sono piccolissime per un albero così grande. Non si vede neanche la cima, una corteccia che racconta la sua vita. Grazie. Grazie.